Buongiorno amici del canale, un annetto fa più o meno ho già avuto la prova impossibile ma era decisamente migliore di questo, era messo molto meglio questo penso che sia uno di quei pezzi dove dici boh non ci provo neanche e in effetti è quello che penso anche io che non ne valga assolutamente la pena ma la mia amata sorellina, Donatellina, ha deciso che questo è della misura perfetta per un certo punto nella sua mansarda dove deve ritirare i cocci della bagna cauda le cose della bourguignon, quelle cose che praticamente uso una volta all'anno ma, piazzecore, per una volta che mi chiedo un restyling vuoi dirle di no? No quindi ci metteremo i guanti e la mascherina perché bisogna togliere cacche di piccione, cacche di uccello, cacche di topo pericolosissime oltretutto, bisogna evitare di respirare questa roba bisognerà sicuramente rifare il fondo perché è completamente marcio due gambe sono state mangiate dai topi e vediamo ora che ci metto mano, inizio a lavare, inizio a pulire tutto il resto mi riserva ancora il diritto di cambiare idea quindi magari questo video lo vedrete quindi se sul canale youtube vuol dire che sono andata fino alla fine se no, no, se no, ho troncato prima ma non perché dal punto di vista strutturale non me la senta ma perché secondo me non ne vale assolutamente la pena e non c'è neanche il valore sentimentale è semplicemente così, la forma, la dimensione partiamo e ma partiamo mettendoci quanti quelli spessi perché non ho voglia di infettarmi le mani io ho volto dei taglietti dovuti al lavoro e con queste cose qua non si scherza allora, partiamo buttando via lo schifo ovvio che bisogna mettersi la mascherina perché questa roba vola purtroppo qua sono passati dei topi negli anni qua ovviamente pennello qua ovviamente non basta aba qua ci metteremo candeggina e tutto quello che occorre per sanificare fortemente Emma se vuoi prendere la scopa e iniziare a pulire il dentro probabilmente questo mobile era abbandonato in una casa e stava per essere ovviamente super giustamente buttato in discarica forse non mi sarei opposta alla discarica questa volta prendo una spatola Emma per favore mi sarei opposta ora aspiriamo il tutto dalla parte sotto togliamo i pezzi perché così si spaccano e basta e cerchiamo di capire come solide salvare la struttura ok accanto Emma questi chiodi sono tutti quanti completamente marci aspetta lo tengo io no questo non si può togliere devo togliermi questo mi chiedo pure questo perché è marcio ok ora possiamo pulire bene la struttura questa gamba è completamente rosicchiata dai topi cerchiamo di capire come ricostruire una gamba qua le termiti l'hanno completamente mangiata quindi anche qua bisogna lavorare sicuramente l'antitarlo deve essere fatto qua voglio rimettere questo che è il ripiano lo sostegno del ripiano di là l'abbiamo già messo lo fissiamo anche di qua si vede che qua c'è una riga si vede che qua c'è una parte più chiara e che deve appoggiare su questo quindi colla mastro d'ascia una delle migliori colle strutturali che ci siano metto la colla perché non me la sento di fare questo lavoro senza colla perché ormai il legno è troppo troppo compromesso e preferisco mettere qualche goccia di colla i veri artigiani una volta non lo facevano ma questo mobile ha un'ultima possibilità oh che mi aiuta la mia sparachiodi grazie a dio che è un accessorio secondo me oggi proprio indispensabile grazie al fatto che ho questo legno che va a appoggiare su questo pezzo di legno superiore so perfettamente a che altezza fermarmi facciamo aderire bene allora ragazzi è ancora lunga ma inizia ad avere una struttura semisolida nel senso che abbiamo rinforzato la base sotto mettendo la colla due chiodi la parte destra e sinistra la parte frontale la parte dietro quindi abbiamo riallineato tutto quanto e adesso sta dritto abbiamo dovuto purtroppo cambiare il fondale perché era completamente marcio e abbiamo seghettato facendo gli scassi giusti con un legno di recupero ma molto solido il pianale centrale va bene sta perché forse un po' sicchio da qualche topino che è passato ma è molto solido ora una porta c'è mettiamo la seconda prima però vi facciamo vedere come sistemare i cassetti quando hanno questo buchettino che è veramente fastidioso lo vedete qui qui davanti qua questa fessurina nei mobili vecchi quasi sempre si trova perché non perché non siano di valore di pregio o altro non c'entra nulla a questo ma perché il legno semplicemente negli anni si muove e spesso e volentieri si restringe quindi lato leggermente indietro non è difficile basta togliere i chiodi che ci sono qua che tengono fermo il piano con il retro e spingerlo in avanti per poi rimettere dei chiodi nuovi no colla solo chiodi ok una testa e procediamo prima di fare un lavaggio un pochettino aggressivo fuori ci sarà anche ah va più altro però penso che cominceremo dall'interno lavando con acqua e candeggina mettiamo le mascherine ma bisogna lavare con candeggina per sanificare perché non si può lo svito l'hai preso Emma perché c'è il mio legno di troppo secchi qua ci sono solo due vecchi chiodi molto grossi e arrugginiti quindi potrebbe essere una buona cosa mettere un po' di svitol perché va a rosicchiare un pelino di ruggine e aiuta spesso l'asportazione del chiodo lo spruzzi lasci un po' di stanti in attese dopodiché provi a destilpare il chiodo vecchio non è sempre facile se i chiodi sono come i miei quindi con la testa molto arrugginita vecchi con un leva a chiodi spesso ce la si fa purtroppo qua ho dovuto andare leggermente dentro al legno ma era troppo arrugginito per venire bene in un altro modo faccio così anche di qua forzo leggermente può essere che purtroppo il legno deteriori leggermente ma nello stato in cui ha questo mobile purtroppo è tutto pieno di tarli nello stato in cui ha questo mobile è purtroppo un problema che si mette in conto e due andiamo all'altro cassetto e poi vediamo che fare mentre Emma inizia a lavare il mobile molto molto a fondo e vedremo che colore ha poi sotto questa patina di sporco schifosissimo io inizio a fare la soluzione con mastro d'ascia e polvere lei ora lava una prima volta fuori con aba quindi acqua calda bicarbonato ammoniaca la parte interna no la parte interna la laveremo con acqua calda e candigina e un goccino di sapone questo perché bisogna disinfettare il più possibile la parte interna ok ora mastro d'ascia io la chiudo sempre così perfetto perché si apre subito non si secca e segatura che filtro con questo vecchio setaccio perché si fa questa pozione magica di segatura e mastro d'ascia lo faccio perché devo stuccare un sacco di punti e li stucco facendo questo mix molto molto solido quindi della segatura che ho preso da un fariname della zona e un po' di colla di mastro d'ascia la posso decideri la densità in base all'utilizzo diventerà durissima qua ne ho un bel po' in realtà io devo ricostruire sia la parte sottostante delle zampotte perché ho due zampe che sono completamente rosicchiate e lì userò anche delle morse con dei pezzi di legno che mi aiutano a ricostruire la gamba ma devo anche tappare i buchi nel piano superiore perché? perché sopra c'era una piattaia ma questo mobile non ce l'ha più chi se dove è andata a finire e quindi dovrò tappare questi due buchi purtroppo facciamo così tolgo un po' di polvere di segatura già filtrata e l'aggiungo piano piano parto mettendo la colla ricordate che asciuga quindi non costruitene troppa piuttosto ne mettete un po' per volta aggiungete pian pianino colla aggiungete un po' di segatura al massimo e se non vi basta la rifate però ricordate che poi nel momento in cui diventa rigida sembrerà veramente un pongo plasmabile quindi occhio eh potete creare appunto la soluzione della densità che vi occorre e regola imprescindibile mettete i guanti altrimenti vi diventano le mani nere e non vengono pulite per giorni 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 ve lo assicuro provato già io metto ancora un po' di polvere perché si sta addensando ma secondo me ancora un po' può servire io uso questa spatolina perché mi trovo molto bene riesco a fare le cose in modo molto fine e preciso potete anche aggiungerla a cucchiaini così sapete quanta polvere di segatura avete messo e quanta colla avete messo ora inizierò tappando i buchi sul piano superiore occhio perché gonfia quindi ci vuole magari un peso in modo che non fuoriesca e il peso ce lo mettiamo con un pezzettino di plastica uso un pezzo di legno con una plastica in modo che non mi si sporchi poi metto un peso in base a quanto stucco avete messo il peso potrà cambiare se la posizione ve lo consente potete anche utilizzare un morsetto una morsa in modo da tenerlo bello fermo in questo momento io qua non posso mettere la morsa e mi basta tranquillamente il mio stucco messo in questo modo fa in fretta quindi quando è diciamo così denso fa in fretta quindi mi raccomando non pensate di doverci mettere troppo tempo beh certo l'ideale è metterlo stasera e tornarlo in mattina per proseguire col mobile ma dipende da quanto tempo avete mentre Emma continua a pulire tutto quanto io creo poca della stessa densità chiudo l'altro buco e inizio a stuccare tutti i buchini che ci sono sulla parte superiore perché sono tanti tante brutte crepe che vanno chiuse mezzo miracolo è stato fatto abbiamo impacchettato il tutto come avete ben visto il giorno dopo abbiamo tolto via l'impacchettamento e abbiamo messo tutto quanto in antitarlo sono passati una trentina di giorni e devo dire la verità va già molto meglio nel senso che puzza molto meno perlomeno è solido la colla ha tirato i nostri chiodi sono al loro posto e lo stucco ha ovviamente tenuto insieme molti pezzi e chiuso molte spaccature anche qua dietro per esempio ora è arrivato il momento di fare il vero e proprio restyling mi prendo degli scalpelli perché per lisciare questo stucco non basta la levigatrice ed inizio a togliere via la parte che è uscita perché anche se si schiaccia purtroppo lo stucco fatto con delle colle che si espandono come la mastodasha di Saratoga che è ottima bisogna poi leggermente carteggiarle e a volte sarebbe lo scalpello ne ho due uno piccolo o più grande e inizio quando usate gli scalpelli per favore guanti molto importante e mai mettere nulla davanti allo scalpello la mano sempre dietro anche qua bisogna andare delicatamente ad eliminare dopodiché dopo andremo anche a lisciare con la levigatrice però bisogna iniziare ad eliminare gli eccessi purtroppo il nostro piano è completamente imbarcato e quindi non avendo un piano dritto non si può sperare di fare un lavoro perfetto ma tanto poi dopo ne andremo con la nostra levigatrice e cercheremo di farlo diventare il più possibile liscio di farlo diventare come vedete da questa parte è stata ricostruita completamente la zampetta questa zampetta è stata mangiata dai topi e abbiamo messo quattro pezzi di legno ai lati con le morse e uno sotto ovviamente ne abbiamo messo tanta e gonfiando la mastro d'ascia con è uscita ora con due scalpelli iniziamo a limare il più grosso quindi a togliere via i pezzi in esubero dopodiché la carteggiamo con la levigatrice mentre andiamo a carteggiare la superficie perché qua c'è un disastro mi aiuto con un martello perché è veramente tanta e dura ecco qua il primo pezzo si sta togliendo e due ora ci sarà assolutamente da limare l'esubero bisogna anche controllare le altezze in modo che questo piedino che è stato praticamente ricostruito al 100% sia poi alto come gli altri prendiamo la levigatrice ci mettiamo sotto la carta 100 e carteggiamo la superficie lo facciamo per togliere le impurità ancora di bicomponente che abbiamo creato e per lisciare un pochettino la superficie Emma sta ancora lavando sento che ha messo l'ammoniaca di nuovo quindi un buon aba rifatto perché sono passati appunto 30 giorni e niente andiamo avanti un pochettino Grazie a tutti 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 Io uso il mio architetto per fare laterale Invece Emma parte nella parte frontale E utilizza il pennello a punta Perché andrà bene 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 nelle scanalature Ascolta Emma Noi poi lo coloreremo anche dentro Quindi non andrei a mettere troppi scotch Andiamo direttamente col colore Mi raccomando Vernici pura su mobile del genere Perché Deve coprire bene tutte le macerie che ci sono sotto E lo scerì copre molto bene se steso puro Finalmente lo vedremo unificato Lo vedremo bello pulito Lo vedremo elegante E non ci sarà più questa struttura oscena a pezzi Che non mi ha fatto dormire qualche notte Sono sincera E non ci sarà più questa struttura oscena a pezzi Trucchettino Per Far sembrare questo piano Leggermente più piacevole Usando lo stesso colore della base Quindi sempre Cherie Usando un venalegno Cerchiamo di riprodurre la venatura del legno Quindi non è una cosa Così molto impattante Però si vedranno delle venature Non perfette Perché ovviamente È messo malissimo questo pennello del legno Tutto quanto ha ballato Però sicuramente aiuterà Quindi Stesso colore di prima Pennello molto molto pieno Molto tozzo Non un pennello fine Mi raccomando Si carica Si accarezza Si estende in tutta la lunghezza E si fa a fette Mi raccomando a fette Non a quadrati Perché Non vi viene Altrimenti Si carica per bene E Si fa una fettona Venalegno Con il cerchio all'ingiù Riproduciamo una leggerissima venatura Sarà molto leggero Molto delicato Nel momento in cui asciuga Rimarrà livellato E piacevole Perché comunque Aiuterà a pensare Che sotto c'è il legno Anche se Il materiale che abbiamo È veramente molto deteriorato Ecco qua Se avanza della vernice Sul venalegno Ovviamente La togliamo Perché se no fa Accumula E si rifà Il tampone ci aiuta Perché è in silicone Quindi essendo morbido Ci aiuta A Aderire Alla superficie Anche se non è Assolutamente Piana E gradevole Continuiamo Su tutta la struttura Visto che l'interno del mobile È molto rovinato E comunque bisognerà mettere Poi all'interno delle pentole E così via Diamo una mano Di rochette E mi è stata bravissima Guardate l'interno Come adesso è pulito Purificato Profumo di Nuovo È un mobile Che non sembra Assolutamente Aver vissuto Quello che purtroppo Ha vissuto Vi ricordate com'era Quel cassetto Cosa c'era dentro? Ok Adesso Un minimo di décappé Ci vuole Perché è un mobile Che va in una casa Country E quindi voglio fare Un leggerissimo décappé Una cosa più sugli angoli Devigatrice Ho la fortuna di non avere il cavo E quindi se Sarò ancora più veloce e agile Mi raccomando Una carta non troppo Grossa Grossolana Io una 120 sotto in tela Così durò un bel po' Via Grazie a tutti Purtroppo Dico purtroppo Siamo quasi in finitura Non è vero Purtroppo no È stato veramente un lavoro lungo Sono due giorni Che cerchiamo di ricompattare Questa credenza Mia sorella In caso voi non lo sapeste ancora Ma forse lo sanno in tanti Perché lo dico sempre Ama l'uva E non possiamo non metterci Due grappoli d'uva Beh diciamo che Il colore ci sta La struttura è molto armonica Perché country Ci sono questi fronzoli Che riprendono della frutta E ci siamo Non voglio mettere fregi Anche se abbiamo dei fregi Con l'uva bellissimi Perché Ci sono degli intagli Il fregio Che in esterna Non stava bene Quindi secondo me Si può sdrammatizzare Con dei bei transfer Allora Questo si chiama Wine E ha diversi soggetti Al suo interno A tema uva Non metteremo tutti i disegni Andremo semplicemente A lavorare su questa parte centrale Quindi su questa parte qua Di drappeggio Con qualche grappolo Con qualche grappolo E qualche Come si chiama Filare Filare di uva Allora questo Sei d'accordo? Lo metto qui? Si 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 Li disponiamo E li grattiamo pian pianino Allora uno Poi gli altri Ema dove li vuoi Allora vorrei capire se Possiamo far partire questo Da qua E poi piuttosto Continuare con l'altro filare Oppure ci conviene Andare direttamente col filare Sono contenta che stiamo registrando Anche i nostri ragionamenti Perché probabilmente a casa Quando li acquistano Si ritrovano di fronte Al nostro stesso Ragionamento Quindi come li predispongo Perché stiano bene? Ecco bene Sappiate che non c'è una regola E anche noi Per imparare Per capire Per scoprire come stanno Proviamo E quindi non c'è nulla di Non si può sapere come viene Prima di aver provato Esatto Li taglio tutte e due Poi vediamo Ok quindi Trucchettino Non metteteli sempre interi Se non sapete Se non avete la garanzia La certezza di come li volete Divideteli In modo che Sia più facile Predisporli sulla superficie Emma appunto Li sta tagliando con le forbici Io sto iniziando con questo qui Che diciamo Abbiamo la garanzia Che deve stare qua La sicurezza E su questo colore sta bene Perché Il colore dell'uva Beh forse un pochettino Più rossiccio dell'uva Dai Però ci sta È il colore bellino Esatto Dell'uva Sì del vino Non dell'uva Ok Uno Schiaccia pure Così va bene Dentro I nostri I nostri Insenature Ora Dicevo O facciamo così E poi qua riprendiamo Col filare In modo che scenda di più Se no Gli attacchiamo questo E questo lo mettiamo qua A me piacerebbe Però Un po' stortino Sì vabbè Vediamo poi Come inclinare E gli altri bianchi Ce li ho qua Possiamo metterli da questo lato Perché ne metterei Uno bianco da una lata E uno bianco dall'altro Quindi scartiamo questo Tu li metteresti dritti Iniziamo a mettere questa Sì perché questo fa così Quell'altro vediamo Iniziamo a mettere questa Poi vediamo Così però Ovviamente andrà ai lati Però questo è il bello Dei transfer Un velo di cera Che definirà il colore finale C'era Jasmine A profumare E quasi sento crederci Che è in piedi Sulle sue gambe Guardate che bello Il colore finale Guardate come cambia È una classica credenza Diamontese Perfetta per stare In una cucina O in un salotto Dove si mangia In una sala da pranzo Dove si mangia Semplice Perché comunque Già ha dei disegni Ha delle forme Che lo richiedono Ora vi faccio vedere Anche il piano superiore Perché il piano superiore Su cui abbiamo passato Il venalegno Diventa veramente Veramente bello Una volta che si passa La cera È ora di vedere Il sopra Guardate come è venuto bene Il venalegno Anche solo usando Colore tono su tono Quando si passa Il pennello Che si vivifica Si iniziano a vedere Le venature Le scanalature Della pittura Questa cosa Non la si può fare Con un qualsiasi smalto Con un qualsiasi vernice Viene solo con una pittura Quanto magic paint Guardate quanto stanno bene Addirittura le vecchie bugnature In questo momento I vecchi difettini Sta tutto bene Ora rifinisco il tutto Lo massaggio poi bene Domattina E ve lo ambiento Per farvi vedere Come sta bene Il nostro ambiente finale Anche questo restyling È finito Mi sono messa qua comoda Sul dondolo E qua sono nella soffitta Nella mansarda Veramente Di casa di mia sorella Lei ha fatto la richiesta Precisa Di avere questa credenza Di questo colore Povera in realtà Non ha visto le condizioni In cui era prima Perché è stato suo marito A portarmi questa credenza Prima che lei la vedesse E quando l'ha vista finita Era contentissima Lei adora l'uva Adora questo colore Minaccia Che un po' si abbina Alla sua cucina È un colore amaranto In realtà Il mio chéri E le piace tantissimo Però non sapeva Le condizioni In cui fosse prima Questa credenza È molto felice Molto soddisfatta Soprattutto del piano superiore Che con questa Finitura leggera Tono su tono Con il vela legno Sembra veramente Legno massello Di chissà quale qualità Per questo restyling Sono venuta qui Per farvi vedere Quanto invece I mobili Negli ambienti Che vanno a ospitarli Poi sono giusti Probabilmente in casa mia Non ci sarebbe stato così bene Ma qui Con questi trami in legno Il pavimento classico La cucina rossa Anche un po' moderna Diciamo questo mix Sta molto bene Sta molto di casa Molto di cucina Di polenta della domenica Quindi al prossimo restyling Ciao Ciao Grazie a tutti.